Saluto e ringrazio della regione Sicilia e della regione Sardegna, così come ringrazio tutti gli altri relatori a partire dal sottosegretario Maglio Di Stefano, che qui al Ministero degli Esteri ha la delega all'internazionalizzazione, il presidente dell'ICE Carlo Ferro e tutti i colleghi che ci hanno seguito di Sace, Simest e del sistema camerale. Senza ulteriori indugi, ma ricordandovi che potete fare delle domande attraverso la chat dedicata e quindi vi invito a interagire con i relatori nel corso di tutta questa sessione perché alla fine poi selezioneremo alcune domande di interesse più generale e le porremo ai relatori in modo tale che possano rispondere. Detto questo, cedo la parola al sottosegretario Di Stefano per l'illustrazione dei sei pilastri e delle attività che stiamo conducendo sul patto per l'expo. Prego sottosegretario. Buongiorno a tutti, buongiorno Stefano, buongiorno a tutti i partecipanti e soprattutto buongiorno alle imprese che seguono ormai da tempo e assiduamente questi roadshow che sono iniziati in forma di webinar tematici, poi abbiamo fatto una versione anche relativa ai temi orizzontali e ora sono diventati un vero e proprio roadshow di presentazione del patto per l'export. Saluto ovviamente gli assessori, in particolare l'assessore Turano che ho avuto il piacere di conoscere. Per me questa è una tappa un po' casalinga, essendo siciliano, palermitano di origine e quindi la faccio con ancora più passione. Come vedete non sono nel mio solito ufficio perché mentre si fa il roadshow sto facendo anche delle missioni presso le aziende italiane per raccontare il patto e per mettere a disposizione la farnesina ancora una volta di un ascolto ancora più approfondito e quindi mi scuserete anche se a fine del mio intervento dovrò lasciarvi perché vado a visitare la Brembo qui vicino dove sono in questo momento. Il patto per l'export, come abbiamo in altre occasioni voluto spiegare bene, non è un patto che nasce meramente per l'emergenza Covid. Questo va compreso bene perché altrimenti ridurremmo il senso dell'operazione che abbiamo fatto. Infatti è un patto che, senza chiamarsi così, nasce ben prima quando abbiamo deciso con l'arrivo del Ministro Di Maio in farnesina di portare le competenze del Ministero dello Sviluppo Economico in tema di internazionalizzazione appunto in farnesina. Questo progetto aveva l'idea della semplificazione, cioè voleva dare alle aziende un riferimento unico per tutto ciò che attinesse all'internazionalizzazione. In fondo è stata questa scelta vincente perché è diventata operativa dal 1 gennaio e quella che ci ha dato poi là per poter fare tutte le scelte che abbiamo fatto successivamente in modo veloce e con una operatività che lasciatemi dire prima non si era mai vista. Questo perché chiaramente avevamo con quella riforma portato sotto la farnesina, in particolare sotto la direzione generale di sistema paese come governance appunto amministrativa, tutte le competenze dei due ministeri, Simest, ICE e quindi il completo cerchio diciamo di operatori della pubblica amministrazione che accompagnano le imprese a internazionalizzarsi. Abbiamo messo quindi a disposizione delle imprese italiane una rete che tra rete diplomatica consolare, istituti di cultura e punti ICE nel mondo raggiunge quasi 300 location e quindi il concetto di la casa degli italiani nel mondo applicato alle aziende si trasforma in realtà. Quindi le aziende hanno una casa in ogni paese del mondo, una casa che non me ne vorranno gli amici diplomatici della farnesina dovete utilizzare appieno, cioè le sedi delle ambasciate, dei consolati sono uno strumento per le aziende anche e quindi contattate la rete, fatevi aiutare anche nell'organizzazione di eventuali missioni, perché no anche B2B che decidete di fare, chiaramente con un coordinamento che l'ambasciata farà in modo appunto attivente alle sue possibili funzioni. Questo perché crediamo fortemente che il concetto di sistema paese debba trasformarsi in una operatività di sistema paese. I dati che diceva prima il ministro Nicoletti con cui abbiamo parlato più volte, anche i dati di ieri di Istat ad esempio che dicono che l'export di luglio sul luglio 19 è ricresciuto, ci devono far sperare, cioè c'è un più 5-7% non sul Covid ma sul pre-Covid, ci devono far sperare che questi strumenti che abbiamo messo a disposizione, per quello parlavo di strumenti nati pre-Covid anche, sono nati per portare l'Italia ad avere una quota di export non in recupero rispetto al Covid ma maggiore rispetto al pre-Covid, perché altrimenti vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa, che non possiamo pensare che una contingenza emergenziale come il Covid possa assorbire tutta la nostra capacità di export. Con questo spirito abbiamo poi con lo scoppio del Covid messo al tavolo 140 tra associazioni di categoria, rappresentanti di vario genere dell'industria italiana ad aprile e abbiamo, tra l'altro c'era proprio l'assessore Turano per il rappresentante della conferenza delle regioni, abbiamo definiti punti per il patto per l'export. È interessante perché tutto quello di cui vi sto parlando è già operativo o pronto per esserlo in attesa che sia il momento giusto per farlo. Un caso di questo è ad esempio la campagna di comunicazione che è il primo pilastro del patto per l'export, una campagna che costa di una targettizzazione di 26 paesi di riferimento, quelli ovviamente a maggior vocazione per l'export italiano, dove andremo a fare una campagna specifica mirata non solo per mercato ma anche per cultura mi viene da dire, cioè utilizzeremo varie tecniche comunicative dal fumetto al videogioco, passando per la carta stampata, i social e tutto quello che può essere maggiormente attraente per la popolazione locale. Vogliamo raccontare nuovamente l'Italia che sfrutti chiaramente i suoi stereotipi positivi, quindi l'Italia del buon gusto, del cibo, dell'abbigliamento, ma che riesca anche ad abbinare tutta quella che è davvero l'Italia del XXI secolo, quindi l'Italia dell'innovazione, della scienza, dell'aerospazio e di quelle capacità industriali che molti magari non conoscono neanche in Italia e che invece oggi sono quelle che vendono di più, ad esempio tutto il mondo della meccanica strumentale, che è l'asse portante del nostro export e che magari spesso abbiamo un po' trascurato in termini di comunicazione perché chiaramente era poco attraente rispetto al vino, per fare un esempio molto facile. Allora, questa campagna venirà anche a questa, raccontare l'altra Italia che potrà vendere di più e potrà quindi migliorare le nostre performance all'estero. Secondo pilastro molto importante, formazione e informazione. Chiaramente lo stesso roadshow e i webinar che abbiamo fatto partono da questo pilastro, quindi aumentare il livello di interazione col beneficiario degli strumenti che facciamo, che mettiamo a disposizione. Spesso, e qui mi rivolgo veramente a tutti gli amici sia delle regioni che dei vari corpi intermedi associativi, spesso gli artigiani, ma le piccolissime imprese non hanno idea degli strumenti che abbiamo creato. Lo vedo anche nelle associazioni medio-piccole, non piccole. Quindi faccio sempre esempio dal cioccolato di Modica, parlando di Sicilia, ma anche, come ho scoperto l'ettimana scorsa, al vetro di Murano, quegli artigiani che magari sono molto concentrati sul lavoro e non riescono a inseguire le notizie, non saperanno nulla dei nostri strumenti. Allora serve che all'azione capillare che stiamo provando a fare come Stato ci sia una onda d'urto maggiore amplificata dal ruolo delle regioni e delle associazioni di categorie, perché altrimenti questi strumenti non hanno la finalità che devono avere. La campagna di formazione si è sviluppata già da qualche mese con un ebook che ha creato appunto la direzione del giornale di sistema paese che si chiama Una Guida per Partire, Export Una Guida per Partire. Trovate il sito esteri.it, quindi il sito della Farnesina, ha avuto diversi aggiornamenti già e soprattutto abbiamo rifinanziato con un decreto attuativo poi del Ministro Di Maio di due settimane fa da 50 milioni i Temporary Export Manager, che già conoscete perché è uno strumento che esiste già, ma anche lì in realtà abbiamo dovuto imprimere un cambiamento modificando i parametri dei consulenti che potrete scegliere oggi molto più qualificati e pertinenti alla loro specializzazione di interesse, quindi all'export. E abbiamo creato una figura nuova grazie ad un accordo con la direzione generale, scusatemi, con la Crui, sui digital manager. Abbiamo voluto puntare molto su questo perché crediamo che la digitalizzazione dei processi sia un obiettivo fondamentale per le imprese italiane per sopravvivere oggi e quindi con i digital manager che saranno formati dalla Crui direttamente verso 20.000 PMI target, grazie anche a un accordo con i maggiori colossi dell'e-commerce e dell'e-marketing, andremo a portare nelle aziende una nuova capacità di export e digitale anche. Questo è sicuramente un progetto importante, ma lasciatemi dire che in questo senso il pilastro più importante è il nuovo portale, portale unico per l'internazionalizzazione, quindi www.export.gov.it che proprio oggi è stato lanciato, quindi possiamo dare questa bella notizia a tutti quelli che sono collegati e che sarà un portale che in tre release differenti, per questo devo ringraziare Cassa Depositi e Presidi, quindi Simest, il Presidente Ferro per la parte di ICE e tutti quelli che hanno lavorato a questo progetto, in tre release partirà da un sito statico di aggregazione in una sola homepage di tutti gli strumenti per l'internazionalizzazione che già di per sé non è poco perché fino ad oggi bisognava cercarli su più siti, fino ad arrivare a un sito che con un login della singola azienda e l'interazione con un'intelligenza artificiale, quindi tutto il mondo della data analysis e anche del machine learning porterà il sistema a dare gli strumenti giusti e i suggerimenti giusti all'azienda registrata in automatico. Questo per me che sono un ingegnere informatico è un passo quantico nella relazione tra gli strumenti pubblici e l'azienda privata. Vi invito a fare quella che in informatica si è una beta testing, quindi farci sapere cosa non va e cosa va man mano che si fa l'esperienza appunto di utilizzo perché abbiamo grande interesse a che questo sito sia veramente un sito all'avanguardia. Pilastro e-commerce, sono certo che il Presidente Ferro approfondirà, dico soltanto che il mandato che ha ICE chiaramente, ma non c'è voluto un mandato, era un loro obiettivo già, è stato quello di aumentare drasticamente il numero di accordi commerciali con i maggiori marketplace e io a questo aggiungo invece a quello che dirà il Presidente Ferro, bisogna creare la cultura dell'e-commerce, vuol dire che bisogna che le aziende capiscano che dietro un portale c'è una logistica adatta, c'è un magazzino adatto, c'è un accordo con un player economico per il payment adatto. Sistema feristico è il tema del momento perché oltre agli strumenti già creati come Fiera Smart 365 o i ristori che abbiamo fatto subito perché aveva perso fondi non partecipando alle fiere di primavera, abbiamo messo in piedi tutto un nuovo piano per l'incoming dei buyers ma forse la notizia più importante, politicamente parlando, è che grazie all'interazione anche con AIFI e con CFI abbiamo stilato una lista di paesi prioritari con i quali la Farnesina, quindi i nostri ambasciatori, stanno cercando di trovare accordi bilaterali per i cosiddetti corridori verdi, quindi per permettere l'arrivo di buyers, viceversa ovviamente, e poter ripartire a pieno con le fiere. In questi giorni ne stiamo facendo già in Italia per fortuna, domani proprio io sarò alla forma del 2020 del Mido, ovvero il DATE, domenica MECAM e MIPEL in forma ibrida ma stiamo ripartendo, questo è un buon messaggio da dare al paese e questi strumenti che abbiamo messo a disposizione aiuteranno a farlo. Una grande quota è stata anche messa sul fondo 39481 di Simest, dove abbiamo creato un capitolo dedicato alle fiere, un fondo da 300 milioni più 63 a fondo perduto per la finanza agevolata per gli enti fiera che hanno sofferto una perdita del 70% durante la fase appunto di lockdown. Un altro pilastro è la promozione integrata, la promozione integrata sono tutte quelle attività che le nostre ambasciate e le reti di diplomatica consulare nel mondo svolge per promuovere il paese. Su questo vi do soltanto un accenno, ovvero abbiamo raddoppiato la cifra destinata a questo capitolo da 30 a 60 milioni e allargato lo scopo del progetto, che prima si chiamava Vivere all'Italiana ed era più un progetto diciamo culturale e di conoscenza appunto del Vivere all'Italiana, quindi molto legato a appunto quegli stereotipi positivi di cui vi parlavo prima e oggi invece diventa un progetto che include tutte le filiere, quindi anche come vi dicevo le macchine, i macchinari e tutta quella parte industriale che magari è meno nota. Abbiamo, dicevo, come ultimo punto però che cuba più di metà del totale investimento del patto per l'export, la finanza agevolata, per questo devo ringraziare Simest, proverò Dottor Tilli a non dire tutto, però è il punto che mi dà più soddisfazione, devo dire, perché grazie all'ottimo lavoro fatto con Simest abbiamo davvero riformato tutto il fondo 394, sia rifinanziandolo per più di tre volte, anzi quattro volte rispetto al 19, un miliardo e due rispetto a 300 milioni, ma anche allargando drasticamente le maglie di utilizzo e la semplicità. Quindi abbiamo eliminato le garanzie bancarie, che erano il grande ostacolo per le piccolissime aziende specialmente, abbiamo inserito anche progetti, cioè l'utilizzo dentro i paesi UE, che erano esclusi prima, e abbiamo semplificato tutto il pacchetto. Il risultato, poi i dettagli ve li darà appunto Simest, ma il risultato per me è clamoroso, perché quando si parla di semplificazione per me il punto è capire le aziende rispetto a un anno fa cosa possono ottenere oggi in termini percentuali, dati scientifici. Avevano capacità di accedere al fondo nel 19 il 5% delle aziende che lo chiedevano, oggi abbiamo fatto fuori, fatemi usare questo termine un po' così, non proprio tecnico, potenzialmente 860 milioni circa di euro nei primi quattro mesi di fondo. Cioè abbiamo fatto nel primi due mesi post lockdown un più 138% rispetto all'intero 2019. Vuol dire che oggi le aziende riescono a utilizzare quei fondi, che è poi l'obiettivo per i quali li creiamo, quindi semplificazione vera. Questi sono un po' tutti i pilastri, dicevo, vi racconteranno nel dettaglio poi gli altri oratori. Credo che occorra comprendere soltanto che non c'è più e non ci può più essere una separazione così organica come era fino ad oggi tra impresa e stato. Gli strumenti che abbiamo creato servono anche a saltare gerarchie. Il sito export.gov è un sito dove direttamente l'azienda trova quello che gli serve. Quindi ora dobbiamo fare tutti un grande sforzo di comunicazione, cioè di raccontare alle imprese che questi strumenti ci sono, che queste potenzialità ci sono, perché sempre più le aziende sentano di essere a casa loro, nei siti della pubblica amministrazione, negli uffici dello Stato. Perché per loro lavoriamo e loro dobbiamo aiutare. Io vi ho preso già troppo tempo, ma sono esaltato dai risultati di questo patto per l'export e ringrazio ancora tutti voi. Saluto gli oratori anche dalle regioni, la mia Sicilia e la Sardegna e vi ringrazio davvero tanto. Vi ripeto, devo andare via perché ho una visita qui alla Brembo, ma buon lavoro davvero e alla prossima. Bene, ringrazio il sottosegretario anche per l'entusiasmo che ci mette e che è palpabile dalle sue parole.